Oggi vi porto con me da Cedric Roleau Perà. Dopo aver fatto la consueta fila, ma c'è un trucco per saltarla che vi dirò in un prossimo video, alle 9.30 spaccati aprono i battenti, tirando su le tende dalle quali si possono già ammirare queste meraviglie. Entrando, il locale è davvero piccolo e sulla destra si trovano i prodotti da colazione come croissant e pan au chocolat, ma si possono ammirare anche le ragazze che finiscono di preparare alcune torte. Dall'altra parte si trovano le monoporzioni e le torte, che sono anch'esse meravigliose. Se non avete prenotato un tavolo, cosa quasi impossibile, potete andare da Starbucks, dove acquisterete le bevande e potrete gustarvi in tutta tranquillità queste delizie. Questa era una crostatina margherita ripiena di mango. Adesso è il momento di assaggiare il croissant e il pan au chocolat. Un bel morsone e vi dico come sono. L'interno è davvero meraviglioso ed il gusto vale la visita. Il prezzo non è nemmeno così alto. 3 euro per un croissant e 5 per un pan au chocolat.